Ciao a tutti! Oggi prepareremo le girelle di pizza con zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Ingredienti sono farina di tipo maritoba, acqua, olio evo, lievito di birra fresco, zucchero, sale, zucchine, prosciutto cotto, scamorza, sale, pepe e olio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il sale e l'olio. Ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale mettere le zucchine. e le facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, il sale e il pepe. E cuocere per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Trasferire in una ciotola. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. e stenderlo con il mattarello. Mettere il prosciutto. La scamorza. La scamorza. Le zucchine. Ed arrotolare aiutandosi con la carta da forno. Effettuare dei tagli di circa 4 centimetri. e posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. E proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. Le girelle sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Girelle di pizza con zucchine. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!